Si può parlare di stile visivo quando parliamo di Quentin Tarantino? Cavolo, a voglia! Ecco 10 elementi ricorrenti nei film di Quentin Tarantino più uno. Pronti? Via! Aspettate ragazzi, prima di partire vi invito a, se non siete ancora iscritti, iscrivervi al canale, attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qual volta pubblico un nuovo video e se volete sostenere concretamente il canale vi invito a visitare la pagina di tp.com. Trovate il link in descrizione. Ma bando alle ciance e partiamo! Al numero 1 il trunk shot, un'angolazione che riprende la scena dall'interno del bagagliaio di un'auto. Sebbene la ripresa possa essere prodotta posizionando la telecamera all'interno del bagagliaio, non ci sarebbe comunque spazio per l'operatore, pertanto spesso Tarantino ha messo la camera vicino a un bagagliaio staccato dalla macchina così da far sembrare che la ripresa sia stata eseguita dall'interno di un'auto. Numero 2 il corpse view, un'inquadratura che riprende la scena dalla prospettiva di un corpo a terra. Numero 3 piani sequenza. Ah il piano sequenza ragazzi, tanto bello da vedere quanto snervante da realizzare. Tutto deve essere perfettamente sincronizzato, se no ciaone. Numero 4 God's Eye Pove. L'inquadratura dell'occhio di Dio, il punto di vista dall'alto, distaccato, col quale usciamo momentaneamente dalla storia per contemplare il momento. Bellissima ad esempio quella in Bastardi senza gloria nella quale seguiamo Shoshanna all'interno del suo cinema. Al numero 5 troviamo la carellata 360 gradi. Un movimento di macchina che crea un forte circolo emotivo. Se usata in situazioni di potenziale tensione è davvero micidiale. E infatti quando la usa spesso Tarantino? Esatto, in momenti di estrema tensione. Al numero 6 troviamo il quick zoom. Sono delle rapide zoomate eseguite con un obiettivo zoom appunto con lunghezza focale variabile, molto utilizzate ad esempio nel suo Django Unchained. Al numero 7 ragazzi non potevo non inserirle, e so che non c'entra molto dal punto di vista tecnico, fotografico, però le inquadrature dei piedi. Seriamente c'è ancora qualcuno che non sa che Tarantino è un grande feticista dei piedi? I piedi sono grandi protagonisti nei suoi film, a volte come semplice elemento visivo, altre volte come in Bastardi senza gloria, come plot twist. Al numero 8 ragazzi lo standoff alla messicana. Mi rendo conto che ora stiamo un po' esulando dal punto di vista tecnico, però questi sono proprio tratti distintivi del cinema di Quentin, ho voluto includerli. Dicevo, standoff alla messicana che è già presente in una vita al massimo, non diretto ma scritto da Tarantino. Standoff alla messicana che è assoluto protagonista nel finale delle Iene. E Tarantino si autocita anche in Bastardi senza gloria, quando Aldo Reine, un soldato tedesco, dopo il massacro nella taverna, discutono se quello che stanno vivendo sia o meno uno standoff alla messicana. Di sopra hanno le granate, se le buttano qui da te, tu sei morto. E' uno stallo alla messicana e non era questo il patto. Abbiamo poi frequentemente scene in ristoranti e bar nei film di Tarantino. Un altro marchio di fabbrica del maestro, fin dalla famosissima colazione dei criminali in le Iene, per non parlare delle grandi bevute al bar in Grindhouse. E non solo scene in ristoranti e bar, ma anche in macchina, soprattutto in macchina. E come ultimo punto, l'undicesimo, perché erano dieci più uno, perché uno me lo so ricordato all'ultimo e non volevo eliminarne uno per averne dieci, quindi undici. Come ultimo, ragazzi, i bagni. Sì, perché i bagni sono spesso presenti nel cinema di Tarantino e spesso rappresentano una svolta nella storia raccontata. Di questo ne ho parlato in un video a parte, se mi ricordo vi lascio o il link in descrizione o una scheda qui, se no lasciatemi un commento e scrivetemi. A link a sto video che ti sei dimenticato. Probabile che succeda così. Bene, ragazzi, quindi questi erano dieci elementi visivi tipici, più uno, del cinema di Tarantino. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un like, a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. A me non resta altro che ringraziarvi della visione, delle iscrizioni, dei commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!